uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda gli ultimi giorni di questa season 1 di fortnite finalmente possiamo dirlo ragazzi manca una manciata di giorni al nuovo alla nuova season di questo capitolo numero 2 sono sicuro che la maggior parte dei giocatori tornerà su fortnite per vedere tutte le novità e c'è da dire che i rumors le voci di corridoio su quello che dovrebbe esserci in season 2 si fanno sempre più interessanti quindi oggi volevo parlarne con voi di alcuni nel video di oggi infatti o è la madosca siamo già passati alla domanda così saltiamo come i cerbiati da war ben bara no e la tenete per dopo nel video di oggi ragazzi parleremo anche però come sempre dell'evento che dovrebbe arrivare in questi ultimi giorni di season 1 l'evento oro o comunque il passaggio tra la prima e la seconda stagione di questo capitolo 2 di fortnite vi farò rivedere uno spezzone di gameplay intanto vi spiegherò bene come funzionerà e cosa succederà in questo evento ed ovviamente ragazzi una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in streaming nella piattaforma viola grazie mille ragazzi io ci sono dalle 8 alle 18 mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video delle 13 e 30 ma prima e l'avete vista già la domandina mi è scappata mi è scivolata domanda molto molto interessante perché fanno parte entrambe comunque dello stesso universo e quindi preferisci harley queen oppure la skin di batman beh dai sono due skin entrambe molto molto interessanti molto belle c'è niente da dire io voto batman sì sì mi piace troppo batman e batman harley queen tutto quello che vuoi ma batman e batman fammi sapere quella che preferisci tu invece qua sotto nei commenti e allora così passiamo quindi ciancio le bande bando alle ciance mi dimentico di mettere gli slide a subito ragazzi al primo alla prima notizia alla prima voce di corridoio di cui si parla nella season 2 che ci sarà o che verrà cambiato parliamo come state vedendo del power leveling praticamente la novità che c'è stata in questi 5 mesi di season rispetto al capitolo 1 di appunto avere dei modi extra per livellare il livello del personaggio questi modi extra sono principalmente due il primo è proprio i punti super caricati che sono praticamente i mini eventi dei weekend dove la barra sotto ti diventa gialla e poi ovviamente il sistema di medaglie parlando proprio del sistema di medaglie si sta discutendo sulla modifica di quest'ultimo nel nuovo capitolo non succederà niente di strano però potremo finalmente avere la possibilità di disabilitare l'audio quando otteniamo le medaglie effettivamente dopo un po anche stufato preferisco ascoltarmi il gioco anche perché se siamo magari in fight o comunque cerchiamo di ascoltare i rumori ogni volta che prendiamo le medaglie da un po fastidio quindi questa sarà una delle cose che potrebbero essere modificate nella nel secondo nella seconda stagione parleremo anche dei veicoli si sta parlando questa teoria venne tirata fuori un bel po di mesi fa quasi all'inizio quindi parliamo di fine ottobre 2019 di questa season dove già si sentiva la mancanza di un veicolo in mappa e le opzioni sono due la prima ritolgono dal magazzino uno dei tanti veicoli che sono già inseriti nei file di gioco il kart il caddy oppure non dico la girosfera perché non arriva potrebbero mettere il drift board potrebbero mettere l'aeroplano non credo oppure potrebbe essere possibile nella season 2 avere la possibilità di utilizzare le macchine sparse per il gioco non tutte ma alcune sono effettivamente dettagliate in una maniera incredibile e si fa fatica a pensare che abbiano deciso di dedicare così tante energie a dei degli oggetti d'ambiente in poche parole speriamo ragazzi vediamo se queste teorie si avvereranno perché sarebbe veramente una gran figata poter guidare una mappa del genere una macchina ma si parla anche delle canne da pesca sì perché con l'introduzione della fiocina è arrivata lì ve lo so se ve lo ricordate quel pomeriggio sarà stato dicembre o novembre da un momento all'altro uno si trovava le fiocine dentro il game ma che cavolo è questa cosa in realtà se devo dire la mia come scritto qua in in questo articolo le canne da pesca hanno uno spawn rate veramente esagerato apri un cesto trovi una canna da pesca spacchi un barile trovi una canna da pesca va in giro trovi le canne da pesca insomma ragazzi ci sta un pochettino per equilibrare il gioco è vero che devi andare per forza a pescare un pesce se lo vuoi prendere però magari bilanciarlo non sarebbe male quindi si discute sul fatto di diminuire o lo spawn rate delle canne da pesca o addirittura ne imitare la possibilità di trovare una fish rope quindi una canna da pesca solamente nei barili quelli che ci sono in giro per la mappa condivido ci sta un sacco ragazzi e equilibrirebbe sicuramente il gioco si parla anche ragazzi dei deltaplani allora si chiede la possibilità di utilizzare un redeploy infinito nella modalità rissa squadre e secondo me è una cosa totalmente accettabile come richiesta non so se vi ricordate il precedente capitolo di fortnite ci furono un paio di mesi a cavallo tra le season 7 e 8 non mi ricordo dove c'era la possibilità di fare il redeploy infinito nel battle royale questo però voleva dire che praticamente non aveva più senso distruggere le strutture dei nemici perché comunque avevi il redeploy infinito secondo me invece ha senso liberare lo slot dei gliders nella rissa squadre e dare il redeploy una cosa che sicuramente dovrebbero tenere in considerazione e si parla anche ovviamente dei movement no delle mobility si chiamano ovviamente in inglese da poco tra l'altro hanno inserito le jump nel battle royale ma in realtà i movement si chiede vengano inseriti anche nel competitive di fortnite sono totalmente d'accordo su questa richiesta perché non sbilancierebbe assolutamente il gioco anzi a palermo lo renderebbe un po più adrenalinico un po più divertente e qua infatti si conclude il discorso che chiedevano appunto i giocatori di reinserire il la mobilità anche nel competitive e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi quello che sembra essere il nostro evento di fine season 1 inizio season 2 l'evento oro oro praticamente è la skin inserita nella pace 11.40 leggendaria e sappiamo che nella nell'isoletta centrale accadrà proprio questo non si saperò ancora quando come avete visto ragazzi siamo nella casa centrale dell'isola e ci sono degli oggetti totalmente ricoperti d'oro che non si possono distruggere è praticamente un evento che verrà diviso in cinque fasi dove piano piano tutti gli oggetti diventeranno appunto dorati non si sa nulla oltre questo gameplay di questo evento e non si sa se arriverà adesso praticamente perché siamo alla fine o ci porterà direttamente nella season 2 insomma ragazzi le news stanno per arrivare oramai ce l'abbiamo fatta siamo arrivati a fine della season teniamo duro che vedrete che il capitolo 2 non ci deluderà assolutamente io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao ciao ciao